buongiorno oggi è una bellissima giornata c'è una bellissima notizia ovvero che mediterranea è entrata prima ovunque sono veramente contento ci tenevo a ringraziarvi di persona è stato un anno veramente intenso e particolare dove non facevo uscire un singolo da tanto tempo perché stavo scrivendo stavo lavorando a un nuovo progetto e possiamo dire che oggi finalmente tutto è cominciato siamo tornati vi voglio bene vi saluto e godiamoci la musica ma non so niente di te ma non fa niente anche se in strada si parla di me il resto lo tengo per te oh calma se questo roteo ci penserà calma dai oh 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 oh